Il Comitato Battipaglia dice no, così come aveva fatto l'associazione Cives et Civitas, rifiuta l'invito dell'amministrazione comunale a partecipare domani alla prima giornata ecologica che si terrà in città, giornate di lotta e giornate ecologiche. Scrivono i componenti del Comitato, che da poco hanno ottenuto dai giudici un CTU che è vigile sull'impianto Ex-Stir, noi non ci saremo, per il rispetto e l'amore che abbiamo per la nostra città e per la dignità che come persone e come Comitato vogliamo continuare a mantenere. Le giornate ecologiche sono ben altre, passano per gli atti concreti, i tavoli sostanziali e non formali, i legami istituzionali e le aule dei tribunali. Era l'ennesima occasione per decidere da che parte stare. Voi avete scelto ancora una volta per la propaganda spicciola.